Come mai ancora a letto stamattina? Mi dedico agli studi Su per me? Studi? Sono troppo giovane per la donna Ragni Anche per... Anche per saltare la colazione sei troppo giovane Non ti piace più come si mangia qui? Sì, ma mangio troppo per un piccolo come me La signora Garrett mi rimpinza sempre Ma vorrai crescere bene, no? Ma in alto, non più largo Hai parlato di questo con la signora Garrett? Non ci riesco, ogni volta che apro la bocca mi ci mette qualcosa dentro Io credo che lei pensi che tu sei più grande dentro di quello che non sembri dall'esterno Già, ho paura che se gli dico qualcosa magari dopo non mi vorrà più bene No, non è vero Avrebbe rispetto per la tua onestà Beh, di più non è una buona idea tenere i problemi chiusi dentro di sé Se qualcosa ti dà fastidio, parla Cioè bisogna far vedere tutto? Esatto All'infuori di questa pancetta Non sei un eschimese, Willis, smettila di arpionare quelle frittelle È necessario se vuoi mangiare quando c'è lei a tavola Tavola Quella lì era la mia frittella Cosa devo fare? Puoi mettere le cifre sulle mie porzioni? Devi solo lasciarmi qualcosa Va bene, Willis È molto maleducato parlare con la bocca piena del cibo di un altro Eccoci qua Buongiorno signora Garrett Oh, buongiorno tesoro mio Ma guarda, è arrivato il bello addormentato Vuoi dire il brutto addormentato? Ti sono debitore di un insulto Signora Garrett Hanno da qualcosa in testa di cui le vuol parlare Oh Ha qualche cosa in testa? Non ha testa, è solo un furuncolo che ha sulle spalle La mia testa è un furuncolo, come ti permetti? Ah 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 Possiamo avere una tregua di cinque minuti, vi ringrazio Hanno, va pure Dunque, signora Garrett Lei mi fa mangiare un po' troppo Deve mangiare un ragazzo che cresce? Sì, ma lei vuol far mangiare tutti i ragazzi della città attraverso la mia boccuccia Boccuccia Se la tua bocca fosse un po' più grande ti potresti inghiottire Ma guarda chi parla, il ragazzo che si infila in bocca le frittelle senza neanche piegarle prima Di giro tu, bocca di me Ehi Io non ho detto niente a me Ah, non è vero Ho cominciato D'accordo Arnold, non è un grande problema Ti assicuro che da oggi ridurrò le tue porzioni Lei è una vera amica Non è stato facile Arnold? In casa tutti sono liberi di dire quel che pensano Allora papà, in questo caso... Aprire la bocca e ridere come un matto Ma che cosa ti prende? Non capisci che è svenuta dopo averci visto? Non è vero È svenuta dopo che ha visto te È svenuta perché noi siamo neri Dici davvero? Beh, è bello essere notati Tu non capisci che ci sono delle persone che hanno dei pregiudizi Sentite ragazzi Ho una bella sorpresa per voi stasera Sua madre se ne va stasera? No Andiamo tutti a cena fuori nel migliore ristorante di New York E mangeremo caviale Oh, che meraviglia Che cos'è il caviale? Accettare le persone per quello che sono Non per quello che vorresti fossero Certo Ha negata nel calcestruzzo Oh Io non riesco a credere che tu possa parlare a tua madre in questo Che tu faccia parte della nuova famiglia Adesso la scelta è tua mamma Oh, beh io Io non avevo intenzione di essere una snob Non sarà difficile per una persona affettuosa e gentile come te È vero ragazzi? Certamente nonna Ti vogliamo bene Sicuro Ma hai avuto una nonna bianca Questa pelle Vai Leggi qualcosa Calpa Digo Andate a giocare Grazie mille Per 50 soldi